Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Con il video di oggi ho pensato di aprire una rubrica di news, brevi e concise notizie che non conoscete o che se ne parla poco, che magari possono essere anche spunto per approfondimenti futuri. Iniziamo con un argomento che in avvenire se ne parlerà molto. In verità già se ne parla e anche io nel canale ne ho parlato in video precedenti. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale. Grazie all'analisi da parte dell'intelligenza artificiale di 9.000 canti di Capodogli, i scienziati del MIT hanno rivelato che il loro linguaggio è molto più avanzato di quanto si pensasse e che somiglia addirittura a quello umano. I Capodogli comunicano attraverso canti misteriosi. In queste canzoni, tra virgolette, ci sono dei misteri e sono una delle specie più intelligenti del pianeta. Hanno sistemi sociali e complessi e un linguaggio che oramai sappiamo si basa sulla combinazione di 156 schemi diversi con suoni di tutti i tipi. Questo linguaggio varia a seconda del contesto e mostra caratteristiche come ritmo, tempo e ornamentazione. I Capodogli modulano i loro suoni a seconda delle conversazioni, il che suggerisce una comunicazione strutturata e complessa simile a quella umana. Ma prestate attenzione perché l'intelligenza artificiale non ha scoperto solo i suoni dei Capodogli. Siamo in una vera rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Alpha Fold 3, un'intelligenza artificiale sviluppata da Google DeepMind e Isomorphic Labs, ha presentato un progetto rivoluzionario nella previsione della struttura e dell'interazione molecolare pubblicata sulla rivista Nature. Questo codice accelera notevolmente la comprensione delle funzioni biologiche, consentendo previsioni precise in pochi secondi. Ovvero, stiamo parlando di un'intelligenza artificiale che prevede strutture proteiche in tre dimensioni in pochi secondi e lo fa anche per milioni di persone. La cosa buona è che lo strumento è gratuito e serve anche per lo sviluppo della ricerca genomica e della biotecnologia dei farmaci. I scienziati sperano che ciò possa aiutare a curare le malattie e a progettare farmaci più efficaci. Ma ovviamente temono che questa tecnologia molto avanzata cada nelle mani sbagliate. Comunque ne abbiamo già parlato in un video precedente. Ma passiamo a quello che stanno costruendo in Arabia Saudita con il progetto NEOM, che sembra essere meno divertente e sorprendente di quanto si pensasse. Un ex ufficiale dell'intelligence ha rivelato alla BBC che le autorità saudite hanno autorizzato l'uso della forza letale per lo sgombro degli abitanti dei villaggi nel deserto, dove verrà costruita NEOM, con la sua lunghissima città Delin. Delin è una città meravigliosa, come molti di voi sapranno. Ne avrete sicuramente sentito parlare, una città di 170 chilometri in linea retta che attraverserà tutto il deserto ed è brutale. Ma qui il problema è sgomberare con la forza le persone che sono nella linea, cioè se qualcuno ha una casa proprio lì. Sono già migliaia le persone che sono state sfrattate. Si ritiene addirittura che stiano sfollando intere comunità, generando preoccupazioni sui diritti umani. E fate attenzione, perché le persone che hanno fatto trapelare questa informazione alla BBC affermano che non possono più tornare in Arabia Saudita perché temono per la loro sicurezza. E adesso andiamo nello spazio. Gli astronomi del MID e del CSIC hanno scoperto un nuovo pianeta chiamato WASP-193b, che è il 50% più grande di Giove, ma molto meno denso, cosa che non può essere spiegato dalla scienza. Lo hanno chiamato il pianeta dello zucchero filato, perché la sua densità è la stessa di uno zucchero filato, il che è abbastanza sconcertante che esistono pianeti del genere. WASP-193b orbita attorno a una stella di 1232 anni luce dalla Terra ed è il secondo pianeta più leggero finora conosciuto. Le sue dimensioni e leggerezza lo rendono un'anomalia tra gli oltre 5400 pianeti scoperti. Ma se dobbiamo parlare di anomalie, direi che le abbiamo più vicine di quanto pensiamo nel nostro sistema solare, in particolare su Europa, luna di Giove, che sembra più misteriosa di quanto si credesse. Quando la NASA, con la navicella spaziale Junio, ha sorvolato la luna di Giove, Europa, il 29 settembre 2022, i ricercatori hanno osservato alcuni dettagli curiosi. Le immagini delle telecamere ad alta risoluzione di Junio mostrano una strana area della luna Europa, chiamata Ornitorinco, è una superficie con creste e fratture incrociate. È stato quando, osservando bene quelle regioni, che si sono resi conto, grazie a diverse immagini, che il suolo lì si muove e si è concluso che tutto il suolo di Europa si muove e si muove sull'acqua. Cioè qualcosa di gigantesco fa muovere la crosta e quel qualcosa è molta acqua lì sotto. Questo sosterrebbe l'esistenza di un oceano molto grande sotto la crosta di Europa e in più tutto si muoverebbe. Gli scienziati dicono che noi dovremmo andarci il prima possibile perché Europa è forse la luna più interessante da esplorare nel nostro sistema solare, poiché potrebbe esserci anche vita in quell'oceano. Per fortuna ci sono missioni pronte come il Clipper Europa e l'IS. Ci vorranno anni, ma sarà interessante vedere come esploreranno la luna Europa. E ora andiamo come sempre con altre fantastiche novità. Una breve attenzione per tutti coloro che bevono alcol. Scienziati creano un nuovo gel che scompone l'alcol nel corpo. L'alcol entra nel flusso sanguigno attraverso lo stomaco e l'intestino, influenzando la concentrazione e aumentando il rischio di malattie e incidenti. I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno sviluppato un gel proteico che scompone l'alcol nel tratto gastrointestinale e lo converte in acido acetico innocuo. Quel gel testato su topi riduce l'alcol nel sangue e riduce al minimo i danni al fegato. Andiamo adesso al James Webb che ha osservato i primi buchi neri nell'universo. Utilizzando il telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno osservato per la prima volta la luce di antiche stelle attorno ai quasar più antichi dell'universo. I ricercatori hanno rivelato questa luce rivelando che i buchi neri super massicci in questi quasar sono 100 volte più grandi dei loro omologhi. Risultati simili sono stati possibili grazie all'alta risoluzione della rete del James Webb che ci ha permesso di studiare le masse e l'evoluzione di questi antichi buchi neri e delle galassie che li ospitano. Adesso andiamo in Siberia perché la famosa porta degli inferi continua a diventare più grande. Il cratere Batagai in Siberia, conosciuto come la porta degli inferi, cresce di un milione di metri cubi all'anno a causa dello scioglimento del permafrost. Questo cratere largo a 990 metri si è formato dopo una frana nel 1991 e rivela permafrost vecchio fino a 650.000 anni. I ricercatori hanno classificato che il cratere è cresciuto di 200 metri nell'ultimo decennio sciogliendo un volume di ghiaccio e sedimenti equivalente a 14 piramidi di Giza. E con quest'ultima notizia io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.